Noi siamo quelli che abbiamo iniziato tanti anni fa e ci abbiamo creduto a questo sogno, a questo progetto quando magari tanti ci guardavano ancora con sospetto. E io sono molto orgogliosa di quello che siamo, specie vedendo i candidati degli altri partiti che hanno lasciato sconvolti i partiti stessi per quanto sono impresentabili. Mi sembra di assistere veramente alla rinascita di mummie storiche o di figli dei figli che uno pensava che mai ci saremmo ritrovati in politica. Oggi Luigi parlerà con voi, come sta facendo ormai da tantissimi giorni, su quelli che sono i punti principali di questo programma. Una cosa che a me piace dire di questo programma è che questo è un programma che ha una coerenza. Perché lo dico? Perché io non credo che troverete mai, per esempio, un partito politico che vi dice che non vuole la promozione della salute. La salute è il bene più grande che tutti noi abbiamo, perché è quello che ci tiene in vita. Però non puoi fare promozione della salute se poi nel frattempo fai una politica energetica prevista dei monti fossili. È proprio impossibile, è una contraddizione in termini. E non puoi fare promozione della salute se non pensi a quelli che sono i determinati sociali della salute, come il reddito, che è un determinante sociale di salute. E noi abbiamo la proposta sul reddito di cittadinanza. Non puoi fare promozione della salute se non investi in istruzione, in istruzione pubblica. E così, l'importanza della coerenza dei punti politici è fondamentale per ridurre l'avversario politico alla sua ipotesia. Perché molti di loro sostengono di volere fare cose magnifiche, meravigliose. Però se poi tu mi poni di fronte a questi collegamenti logici, ne ho fatto uno velocissimo, ma ne potrei fare tantissimi altri, vedete, cadono come il frutto dell'albero. E guarda caso, io sono un medico, quindi vedo che di salute praticamente non se ne occupano minimamente. Si parla solo del tema dei vaccini con una mera ossessiva e per cura strumentalizzazione politica quando non si parla di nient'altro, quando non si parla dei pronto soccorso che sono sovraffollati senza personale, quando non si parla delle liste d'attesa di due anni, quando non si parla, per carità, dell'assistenza ai nostri anziani, e quindi penso che tutti lo viviamo tutti i giorni, che cosa significa dover assistere un anziano o un disabile a casa senza avere zero, perché in Sicilia abbiamo zero aiuto delle istituzioni, magari in qualche regione al nord un minimo ce l'hanno, ma qui siamo all'anno zero. Non si parla di come si fa ad accedere a una semplice informazione, per esempio per richiedere l'assistenza domiciliana integrata, vai sul sito dell'ASP ed esce pazzo, magari un laureato con tre master ci sta un'ora e mezza a cercare di trovare un modo e poi neanche lo trova, e di tutto questo non si parla, si parla giustamente delle tasse, perché tutti non siamo stati operati, peccato che però quelli che le parlano sono quelli che le tasse ce le hanno messe, per esempio, e non le hanno mai tolte, quindi con la credibilità che hanno, che è pari a zero. Grazie, ma io lascio soprattutto lo spazio adesso a chi mi segue. Ricordo, così lo sapete tutti, che io sono anche candidata all'urinominale di ACI Reale, territorio molto basso, in cui il mio sfidante del centro-destra è il Basilio Catanoso, del centro-sinistra cosiddetto Nicola D'Agostino, quindi se per caso qualcuno si volesse aiutare in quei territori e vorreste soprattutto aiutare il comitato, ve ne sarei grata. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Lava Pazzia, come diceva Giancarlo, mi occupo, la quasi totalità della mia vita professionale, di misurazione. La mia specialità è la misurazione nei miei digitali. In questo ambito ho rappresentato l'Europa nel volo internazionale della Digital Validics Association e ultimamente mi occupo di antimontrappazione online. Volevo ringraziare il Movimento 5 Stelle per avermi candidata al Collegio Uninominale di Catania alla Camera. Il motivo per cui sono qui è che negli ultimi anni sono stata tramonta dai valori del Movimento 5 Stelle, i valori di onestà, trasparenza e coerenza che dovrebbero essere espressioni di valore in tutti i partiti politici, sembrano in realtà essere un'esclusiva del Movimento 5 Stelle. Vi ringrazio perché mi hanno ridato una speranza per un futuro migliore e mi hanno dato la possibilità di credere che potrebbe esserci un Paese migliore. metto le mie conoscenze in ambito digital a disposizione del Movimento 5 Stelle. Penso di essere proprio nel posto giusto. Il Movimento 5 Stelle è l'unico partito che pensa che l'innovazione tecnologica possano migliorare la qualità della vita dei cittadini. Troverete nel programma alla voce Smart Nation investimenti in innovazione tecnologica, internet delle cose, digitalizzazione dell'APA e soprattutto formazione di nuove figure professionali, le figure che oggi il mercato richiede. Volevo ancora ringraziare il Movimento per avermi dato, regalato, un biglietto per questo entusiasmante e nuovo viaggio. Ci piacerebbe farlo con tutti voi. Adesso rimontiamoci le maniche e riprendiamoci il nostro Paese. Siamo in onore a quando. Grazie. Buonasera a tutti. Vi ringrazio per essere qui e ringrazio il Movimento e tutti noi per avere questa grande opportunità. L'opportunità di cambiare nella sostanza l'Italia. L'opportunità di cambiarla con un progetto serio, con un progetto che si fonda su studi importanti e seri, che guardano l'economia nel modo corretto. Laura è un'imprenditrice, mi ha parlato delle nuove tecnologie. Oggi siamo andati a visitare un'azienda, un'impresa che si occupa di software, di nuove tecnologie. È questo quello verso il mondo. Il mondo sta andando verso questo tipo di cose, verso l'innovazione tecnologica, verso l'intervento delle cose. Allora, quello che noi dobbiamo fare è pensare a un nuovo tipo di lavoro, a un nuovo tipo di modo di approcciarsi al lavoro, all'acquisizione continuo di competenze che possono essere trasversali, che possono aiutare tutti noi lavoratori che hanno tante competenze con una formazione continua e imprese dall'altra parte che hanno necessità di avere lavoratori competenti. Ed è proprio questo quello su cui noi del Movimento 5 Stelle stiamo un po' imputando. Un modello che si chiama Flex Security, che unisce la flessibilità alla sicurezza. Quando noi parliamo di reddito di cittadinanza, non stiamo facendo altro che applicare questo sistema di Flex Security, di sicurezza, che esiste in tutti gli altri paesi europei, in tutti gli altri paesi del mondo, tranne che in Italia c'eriamo sicurezza nei momenti, di sicurezza economica e contemporaneamente formazione e aiuto di inserimento lavorativo in quei momenti in cui il lavoratore è in condizioni di difficoltà o di carenza formativa, perché se si è in carenza formativa è chiaro che si ha più difficoltà a trovare lavoro. A questo uniamo che cosa? Una riforma dei servizi per l'impiego? Pensiamo che in Germania i lavoratori che si occupano dell'accompagnamento lavorativo, della formazione appunto dei cittadini sono ben 110.000 e l'Italia 9.000. In Svezia sono 10.800 e la popolazione è 7 volte migliore dell'Italia, in Italia invece appunto come diciamo prima 9.000. Allora noi dobbiamo dare un punto di riferimento, il punto di riferimento serve come dicevamo per la sanità ma serve anche per i servizi del lavoro, il cittadino deve sapere che c'è un luogo a cui potersi rivolgere, un posto dove c'è del personale che l'aiuta e l'accompagna e l'imprenditore deve poter sapere che c'è comunque la possibilità in tempi abbastanza veloci di trovare un lavoratore preparato per le competenze che sta cercando. Questo è il vero incrocio della domanda degli offerti di lavoro, così evitiamo che ci siano persone giovani che addirittura vanno fuori per trovare il lavoro e che ci siano da una parte aziende che non riescono a trovare i lavoratori per le competenze che trovano o che dall'altra parte ci siano imprese che non riescono a mettersi a pari basso con gli investimenti e con le nuove tecnologie. Quindi noi aiutiamo gli investimenti diretti da una parte, studiamo i settori produttivi sui quali investimenti, facciamo formazione, accompagniamo all'insegnamento lavorativo e appunto il circolo e il cerco si è chiuso. Questa è una visione penso corretta del Paese ed è una visione che ci consente di avere un'economia dignitosa rispetto a quello che sono poi che è l'economia dell'intero Europa rispetto all'economia globale. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Io vi ringrazio e vedo ancora la parola adesso a Tiziana Gravo che è un'altra delle donne, mi consentite di rompire di questa cosa, che è al Collegio Binominale, insieme a me al Senato, io sono candidata al Collegio Binominale di Catania e Tiziana invece nell'altro. Allora, salve a tutti, intanto premetto che il mio cognome non ha nulla a rivedere con Filippo D'Ago in conto. Perché noi siamo interi, siamo arrivati a una promessa per ora. Scusa dirvi, la presentazione è già stata fatta in via di massima, io però vorrei dimmiere qualcos'altro. Intanto sono mamma di quattro figli e a questo non ci tengo, anche se posso dare un amorissimo. E proprio in più di questo lo avete appreso nel passato, insomma, anche in un momento abbiamo collaborato con un'associazione famigliare, in particolare in modo che voi formano la presidenza. E allora cosa ho notato in questi anni? Che il problema più grosso è quella della divisione, ma la divisione in qualsiasi ambito. In Italia abbiamo il pluralismo politico, però non c'è una convergenza nelle idee e nelle proposte. Ed è questo quello che sin dall'inizio mi ha tirato dal movimento. Cioè il fatto che non c'è una coalizione a priori, no? Atatica. È una, come dire, una collaborazione sulle proposte. E allora mi sono chiesta negli anni, diciamo, ho fatto questa riflessione. Probabilmente io vedevo che magari il termine famiglia divina poco utilizzato e, come dire, gli oppositori si facciano forte di ciò, no? Però io sono sempre, come dire, dell'appriso che si testimoniano non con le parole, ma con la vita e con i fatti. E con i fatti anche, appunto, la proposta della Catalfo di Nunzia si sposa bene con le esigenze delle famiglie. Perché il problema è che in Italia non esistono politiche familiari, sono completamente assenti. E allora se avete notato, vi ho detto, diciamo, i 20 punti, noterete che per quanto riguarda la famiglia, appunto, è stato, il movimento propone lo stanziamento di 17 miliardi di interventi sui mesi di nido, su corsi e padanti. E comunque, chiaramente, le proposte e le idee sono tante. Però, ripeto, è importante convergere sugli obiettivi, a partire dalle proposte, chiaramente. E per quanto riguarda il discorso, appunto, delle politiche familiari, il modello a cui ispirarsi potrebbe essere, perché in Italia, in Europa, sono molti i modelli che funzionano. Anche nella regione scambina, ma Germania forse adesso un po' meno. Però a Francia, sicuramente, il modello francese, che propone il fatto della famiglia. Poi adesso è stato elaborato anche col foro maledio nazionale. Penso che, diciamo, hanno proposte che si possa sposare, insomma, con il movimento, infatti, appunto, mi dice appunto il rimanio che è stato sostenuto, è quello del patto per natalità. Perché l'Italia è tra gli ultimi paesi al mondo per natalità. Abbiamo una media di 1,26 figli a coppia. È bassissimo. Per cui, già, che ha due figli, è stramina onorosa. Si può rivedere. E altro settore che, come dire, io amo, ovviamente, perché è la mia professione, è quello della scuola. Io penso che più in basso sono state, come dire, pensate da coloro che non stanno al di là di una cattedra. Non si può proporre dei ragazzi a autorizzarli a portare dei cellulari a classi. Non si può proporre, dare la libertà, cioè non poter valutare il comportamento. Non che il comportamento possa... Diciamo che personalmente ho tanti. Ad esempio, io non sono d'accordo all'idea del voto. Non si può catalogare un ragazzo. Valutare. Io penso che nella professione del docente la cosa più difficile è sicuramente valutare. Sulla base di che cosa? Ci sono i parametri, degli indicatori. Però, ad un ragazzo, ad un genitore, non possiamo, perché sono anche male, ovviamente, no? Non possiamo semplicemente dire suo figlio non va bene una determinata... Dobbiamo proporre delle soluzioni. Quindi... E questo, diciamo, è il come dire, il filo conduttore anche un po' della filosofia di vita, no? Mio, ovviamente. Cioè quella di fare delle... di protestare, sicuramente, demorativamente, ma fare delle proposte. Non ci si possono fermare sulle proposte. Per cui, se io potessi, come dire, descrivere lo stile che vorrei seguire in questa campagna elettorale, è quella che non ha più dire l'avversario. Di non parlare mai dell'avversario, io vorrei semplicemente parlare delle proposte che vorrei portare anche. Io penso che questa sia già la luce. E per l'ultima verità, agli regionali, io ho ammiglato molto a Giancarlo per questo, perché vedevo che realmente, anche in altri, in vari comizi, faceva delle proposte e mentre le pensavo, insomma, un po' avanzavano alcune frecciatine, lui, impassibile, continuava con la e poi vorrei concludere dicendo due cosine velocemente. Una, che sono veramente vieta anche dei miei ragazzi, che sono stati dolcissimi in questi giorni, immaginate, no, scuole lei, dei miei bigliettini, una ragazzina mi ha detto, per questo essere da ringrazio perché mi ha insegnato che la conoscenza rende vita. E questo mi ha dato veramente molto meglio. E poi, come dire, in questi anni il mio light modus è stato sempre un'espressione che ho incalmato da piccola, ma che mi ha condotto durante la mia vita, di Martin Luther King, che afferma così comodo, che lui dice, disse, non ho paura della cattività dei malvaggi, ma del silenzio degli onesti. Grazie di tanto, grazie alle vostre donne. Poi lì si parla tanto di quote, rosa, un termine che avreste rito almeno perché piaccia molto. In politica alle donne per farle partecipare bisogna semplicemente candidarle. E basta, noi facciamolo noi. Per il resto, se pensiamo, ho due cose ovviamente di fare e di portarla poi in parlamento. Lo fa anche per russoni, ma la selezione è diversa. Beh, non ne metto però nei vostri cuori, non parlerete. Luigi. Io ti... Un altro grazie per essere venuti a riuscire a stare, perché sono tre mesi più per fare. Vedi è la continuità di una coppia di fatto. C'era un tempo in cui parlavamo di progette che avremmo nominato la sua segretaria come assessore. È notizia di stamattina, perché io in campagna elettorale ho detto Musumedi sarà il progetto del centro-destra. Le mosse sono le stesse, praticamente. Stamattina ha nominato la sua segretaria presidente del Consorzio Costante Siciliano. Questo era da raccontarvi l'ennesima storia di questa nostra terra che davvero con queste persone non potrà mai cambiare. Luigi Di Mani. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Io ho passato tre mesi in Sicilia, da agosto fino al 5 novembre. Abbiamo fatto una campagna splendida insieme a Giancarlo, insieme a tanti di voi che prima stavo guardando mentre me ne stavo seduto e vedevo i vostri volti. Ci conosciamo ormai un po' tutti. Perché veramente è stata una campagna in cui mi sono trasferito qui. Sono diventato di parte siciliano, si può dire. E sono stati tre mesi in cui ho conosciuto questa terra. In cui abbiamo chiesto ai siciliani di scegliere tra una forza politica che era la nostra, che stava provando ad entrare nelle istituzioni dalla porta del governo per cominciare a recuperare tutti i soldi che gli hanno tolto e tutti gli altri che sono quelli che i soldi venivano sempre tolti per utilizzarli per assumere la segretaria, per aumentare gli stipendi dei loro funzionari regionali che hanno nominato, per tenersi vitalizi, per continuare a fare sprechi e soprattutto per non risolvervi grandi problemi. Città senza acqua, nuove discariche che si stanno creando, gestione dei rifiuti totalmente fuori controllo perché l'assessore che avevano nominato ha scoperto di essere stato nominato assessore ai rifiuti ma non voleva farlo, infatti si è dimesso dopo qualche ora. La Sicilia per quattro punti percentuali, per i voti degli impresentabili ha scelto Michi Gay presidente, perché non ha scelto Musumeci, ha scelto Michi Gay, ricordiamolo sempre. E va bene, è una vostra scelta. Noi il risultato che abbiamo fatto qui in Sicilia, il 35%, è un risultato che riteniamo super incoraggiante perché se abbiamo avuto il 35% qui in Sicilia al livello nazionale possiamo raggiungere qualsiasi risultato. Tenete presente che nel 2012 avevamo raggiunto il 18% e abbiamo ottenuto il 25% a livello nazionale dopo tre mesi. Qui abbiamo ottenuto il 35% tre mesi fa e il 4 marzo qualsiasi risultato possibile, basta crederci per arrivare al governo del Paese. Ora però io vi chiedo con molta cortesia, col cuore, di sostenerci perché il vero grande problema è che noi non vogliamo un Paese ostaggio delle ammocchiate politiche. Perché la vostra Regione è ostaggio da mesi delle grandi ammocchiate nel centro-destra, sostenuta anche in parte dal centro-sinistra, che si mettono insieme prima delle elezioni per vincere e il giorno dopo iniziano a litigare. Ed è per questo che non si risolveranno e non si stanno risolvendo i grandi problemi legati ai vostri servizi essenziali. Io vi chiedo di votare la forza politica che si presenta a carte scoperte, non a carte coperte. Noi abbiamo una lista, abbiamo i nostri candidati dei collegi nominati, su cui dopo, su queste quattro donne vorrei dire qualcosa perché voglio raccontarvi il movimento con le esperienze di queste persone. E abbiamo un simbolo e un candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima delle elezioni avrete anche i candidati ministri della squadra di governo del Movimento 5 Stelle. Non solo me come candidato alla presidenza, ma anche i candidati ministri. Perché vogliamo essere il più chiari possibile. Vi vogliamo dare tutte le informazioni per votarci. In modo tale che non dobbiate votare Berlusconi e poi vi ritrovate Tagliani o vi ritrovate Frantini, o dobbiate votare Renzi e vi ritrovate di nuovo Gentiloni o Letta. In questi anni sono queste larghe intese che hanno creato la legge Fornero, il Jobs Act, la precarietà del lavoro giovanile, l'emigrazione giovanile. Si sono sempre messi insieme dicendo che era per il bene del Paese, ma lo sappiamo bene che si sono messi insieme per restare lì un altro po', perché le cose non stavano più andato bene politicamente per loro. Io sono molto fiducioso. Abbiamo davanti un altro mese in cui la Sicilia potrà dare un grande contributo al risultato per le elezioni politiche. Ma vincere non significa entrare a Palazzo Chigi. Voi non dovete immaginare la vittoria come quella. Quello sarà il primo atto che faremo se ci consentirete di andare al governo. Ma vincere significa cominciare a realizzare quelle cose che aspettiamo da 30 anni in Italia, che tutti ci dicono che si devono realizzare e che mancano ancora realizzate. In Sicilia ci sono tante persone che hanno una pensione sotto la soglia di povertà. Per me un Paese non è civile se eroga pensioni sotto la soglia di povertà individuata dall'Unione Europea, che per l'Evostan è 780 euro al mese. Ci sono migliaia e migliaia di siciliani che ricevono pensioni sotto questa soglia e che continuano con queste piccolissime pensioni anche a mantenere a volte i figli e i nipoti. Noi abbiamo fatto insieme a Munsia la legge sul reddito di cittadinanza, ma lì dentro c'è un provvedimento di cui si parla sempre poco, che è la pensione di cittadinanza, che è una pensione minima in Italia che non dovrà mai più scendere sotto la soglia di povertà relativa. Così potremmo dirci un Paese civile. È un Paese che assicura ai pensionati di arrivare a fine mese. E guardate che se voi andate oggi alle mese che erogano pasti per le persone in difficoltà, non solo la Caritas, ma tante altre, scoprirete che la maggioranza degli italiani che vanno lì sono pensionati. Perché i pensionati sono i nuovi popoli, sono quelli a cui noi ripaghiamo 30-40 anni di lavoro con una pensione minima. E quelli là devono guardare parlamentari, deputati regionali, assessori e ministri che dopo tre anni, non dopo 30 anni, si prendono vitalizi anche di 5.000 euro al mese. E poi dicono che ci si affeziona alle istituzioni, che ci si allontana dalle istituzioni. Se noi vogliamo rinanciare l'Italia dobbiamo cominciare a eliminare le ingiustizie. E sicuramente non potrete mai dirci che noi siamo una forza politica che non mantiene le promesse. Siamo stati gli unici 5 anni fa a dirvi che saremo entrati in Parlamento e al di là degli altri, al di là di quello che facevamo gli altri, avremmo rinunciato ai primi leggi. Oggi siamo arrivati a 22 milioni di euro di stipendi italiani solo ai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Con cui però abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama microcredito, che funziona bene in alcune parti del Paese, meno bene in altre. Però tenete presente che in Italia esistono 7.000 imprese che hanno dato lavoro a 13.000 italiani grazie a un parlamentare che si è tagliato il suo stipendio. Quel parlamentare era del Movimento 5 Stelle. Lo abbiamo fatto erogando piccoli crediti a chi stava emigrando e invece voleva aprire una piccola attività, voleva aprire un esercizio commerciale o uno studio professionale o una cooperativa o una startup innovativa. E lo abbiamo fatto con un fondo dove oggi noi abbiamo restato 21 milioni di euro, gli altri 0. A noi si applica la legge 4 euro perché siamo stati gli unici a riduciare al vitalizio come parlamentari. Loro invece dopo 4 anni e 6 mesi avranno una pensione a 60 anni di 1.000 euro e si prendono rieletti di 2.000 euro. Di questo stiamo parlando. Lo so che questo non cambia il destino di un paese. Io lo so che questi non sono tutti i soldi che ci servono per fare le grandi manovre economiche. Lo so benissimo. Ma se noi non rimettiamo in condizione della classe politica di essere allo stesso livello di difficoltà del cittadino comune, noi quella classe politica la perderemo sempre di vista perché continuamente non si ricorderà di quali sono i vostri problemi. Prima si diceva bene, noi abbiamo un grande problema in Italia, la crescita demografica viene ancora prima della crescita economica. L'Italia è un paese, è l'ultimo paese d'Europa per nascite, il primo a sapere qual è la Francia. Noi siamo un paese, l'Italia, che ha 1,6 bambini per coppia. La Francia è il primo paese per nascite. Perché? Perché investe il 2,5% del figlio in politica della famiglia e significa welfare familiare, significa che ti pagano quando ti nasce un bambino fino al terzo figlio, vanno lì babysitter, asilo nido, assegno di istruzione fino al terzo figlio, assegno di mantenimento di 800 euro al mese per figlio. Noi stiamo parlando di una nazione, la Francia, che mette i soldi in politiche per incentivare le famiglie, per aiutare le famiglie che fanno figli. I figli sono un atto d'amore, per carità. Io non sto dicendo che bisogna farli se si prendono rispondenti, ma possiamo dirci che proprio perché sono un atto d'amore dobbiamo assicurarci che abbiano una vita serena, soprattutto nei primi anni della loro nascita. E allora tutti si chiedono perché l'Italia non faccia figli. Qualcuno dice perché gli indagani non hanno voglia di fare figli. Eppure uno studio del 2015 dimostra che siamo il primo paese per voglia di fare figli. Quindi non è questo il punto. Il punto sono le politiche che si fanno per chi fa figli in un paese in cui tutti si sono riempiti a bocca con questa parola famiglia, 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 vai al palazzo Ligia, al dipartimento che se ne occupa e scopri che non hanno mai fatto un piano per le famiglie italiane, mai. Perché ogni anno bisognava scegliere dove mettere i soldi da qualche altra parte, mai nelle cose più importanti. Il 2,5% del PIB che investe dalla Francia è anche la nostra portata. Come diceva prima Tiziana ci costa 17 miliardi di euro e voi direte ma i soldi dove le vai a prendere? La pensione di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza? E poi i raggiunti alle famiglie? E poi volete fare gli investimenti nelle nuove tecnologie? Dove prendi tutti questi soldi? E alla fine con questa storia dei soldi ci siamo sempre sentiti a dire che non si poteva fare niente. Io l'ho visto il bilancio dello Stato. Oggi siamo stati da scegliere una realtà stupenda che si occupa di nuove tecnologie. Ed io mi hanno detto questi ragazzi ma dove li prendete i soldi? E io vi ho raccontato la solita storia che vi ho raccontato per tutta la campagna elettorale, ma te la voglio raccontare ancora. Io quando sono arrivato alla camera, la camera costava oltre un miliardo di euro. Oggi costa 200 milioni di euro in meno sul perciò. Perché? Perché quando siamo arrivati lì, la prima cosa che abbiamo chiesto è stata ma ci spiegate perché un palazzo costa un miliardo di euro? Ce l'ho spiegato perché un solo palazzo avrà una costa un miliardo. E no, sono tutte spese correnti, spese importanti, non si può tagliare niente, non si può fare, i soldi poi non mancano, non ci sono dei risorsi. Abbiamo aperto il bilancio e ci abbiamo trovato di tutto. C'era pure la famosa assicurazione dalle puntude di insetto e dalle insolazioni con cui si facevano rimpostare i parlamentari. C'era anche il famoso milione di euro con cui si pagavano i viaggi agli ex parlamentari. Avrete mandato circa un po' vicino in giro per tutta Italia, non so per quanti decenni a spese vostre, pur se non era più parlamentare. C'erano i 30 milioni di euro di affitti d'oro che pagava la Camera dei Deputati. Non li pagate più da quattro anni perché dopo vent'anni siamo arrivati noi lì dentro, l'abbiamo scoperto e gliel'abbiamo fatto saltare. Come non pagate più la polizia assicurativa, non pagate più i viaggi agli ex parlamentari. La questione degli affitti d'oro, io la racconto sempre perché è stata la mia scuola politica. Arrivi di dentro e ti dicono non si possono tagliare perché i contratti sono senza clausola delle cesse. Dal 98 le stavamo pagando 32 milioni di euro per due palazzi che non erano neanche di proprietà di quello che aveva firmato il contratto con la Camera. Per spiegarti come funzionano queste cose. Poi voi quando invece dovete comprare una casa, dovete contencare la casa dei vostri imprenditori per ottenere un mutuo, per non parlare dei contratti di affitto. Alla Camera nel 98 andò così, c'era uno che non possedeva i due palazzi che voleva affittare la Camera, andò dal Presidente della Camera che si chiama Violante e si fece firmare un contratto senza prendere la proprietà. Con quel contratto da 32 milioni di euro, allora nel dire, va in banca e si fa il mutuo per comprarsi i palazzi che aveva già affittato la Camera. Questo era il meccanismo. Dopo 20 anni arriviamo noi e gli diciamo, scusate ma 32 milioni di euro, questi palazzi valgono 10 milioni, se volete, li compriamo ma con un terzo di quello che paghiamo in un anno, ma non ci servono, non ci servono perché abbiamo già palazzi di nostra proprietà come Camera e come Stato non ne parliamo. La risposta è che sì però, il problema è che questi contratti per legge non li possiamo modificare, la legge non ce lo consente. E la nostra risposta dai geni della politica è come, scusate, la legge la facciamo noi qua dentro, siamo parlamentari della Repubblica, siamo qui per cambiarla, che serve. E vi assicuro che dopo sei mesi di lavoro riuscimo a cambiare la legge perché inserimmo tre righe in un'altra legge senza farcene accorgere, la votarono senza accorgersene e nel 2014 abbiamo fatto saltare gli affitti di oro. Ma la cosa interessante accade un giorno dopo le elezioni, quando quel signore che aveva firmato i contratti senza avere la proprietà dei palazzi va ai giornali per vendicarsi, gli avevano fatto saltare 32 milioni di euro. E io credevo se volessi vendicare con noi. Invece si è vendicato con tutti gli altri, dicendo che il momento cinque stelle è stato coerente, è venuto qui e ha detto che voleva tagliare quegli sprechi. Il problema sono gli altri che mi avevano sempre assicurati quei 32 milioni. Allora io vi voglio dire come stanno le cose. E' vero che io prendevo 32 milioni, ma ad ogni campagna elettorale pagavo la campagna elettorale a tutti i partiti che me l'avevano assicurato i 32 milioni. E se non erano i 32 milioni, se non erano finanziamenti leciti alle forze politiche erano assunzioni. Tant'è vero che io non mi spiegavo perché quella società che gestiva i palazzi stava andando sotto sopra, era quasi in manca rotta. E io dico ma scusate voi vedete 32 milioni per due palazzi che ne vanno 10. Com'è possibile che state andando sotto sopra? E poi me l'ha spiegata. Questo episodio qui mi ha fatto cambiare tante cose che se si vuole questo paese cambia. A per poterlo devi essere libero perché se ti nutri dei problemi, degli sprechi, della corruzione di questo paese non potrai mai metterci mano anche se hai la migliore delle volontà. E questo vale anche per i soldi. Questa campagna noi la stiamo finanziando come sempre con le vostre donazioni. Siamo arrivati a circa 500 mila euro di donazioni, in media di 29 euro di migliaia di italiani che credono nella nostra campagna. Non abbiamo preso soldi pubblici e non prenderemo soldi dalle grandi lobby private. Questo, grazie a voi, ci permetterà di essere liberi. Liberi di fare bene o di sbagliare, ma sempre liberi di poter fare la cosa che vuoi fare con onestà intellettuale, che è realizzare il programma elettorale. Certo, non basta solo la libertà, serve la competenza, ma spieghiamoci un attimo che cos'è la competenza. Perché qui avete Nunzia e Giulia che conoscete di più, perché sono i nostri parlamentari uscenti, ma ci sono anche Laura e Tiziana. Tutte e quattro sono persone che conoscono bene la materia di cui si occupano nella loro vita o in Parlamento. Il vero grande tema è che però questo non basta. Loro possono conoscere la materia, ma devono avere la sensibilità nell'affrontare quella materia. Noi non parliamo solo di testa, ma anche di cuore quando parliamo di competenza. È competente chi, quando fa la riforma delle pensioni, si chiede che effetto avrà quella riforma sulle persone, non solo che effetto avrà sul bilancio dello Stato. È competente chi, quando mette mano alla sanità, si preoccupa dell'effetto sui pazienti, non dell'effetto soltanto sulle aziende a cui decide di dare gli appalti. La sanità ha tanti problemi e Giulia se ne è occupata per anni, per cinque anni si è occupata di questi. Però io, se posso dirvi la verità, un problema a monte lo vedo che dobbiamo risolvere. E purtroppo la giunta regionale che vi ritrovate adesso non credo che voglia risolvere. È che le ASD, quindi le ASP, non lavorano per voi, ma lavorano per la politica. E perché? Perché le nomine dei dirigenti sono nomine politiche. Se noi non togliamo la nomina politica dei dirigenti della sanità e garantiamo quanta più meritocrazia possibile in queste nomine, la sanità lavorerà sempre per loro, mai per voi. Mai per voi. E lo stesso vale per lo Stato economico dell'Italia. Il big crash, tra l'altro io sono stato a Londra l'altro ieri, gli investitori internazionali mi hanno detto chiaramente, sì, voi crescete, 1,5. Ma anche se andaste al doppio della velocità che state andando, sareste sempre gli ultimi in Europa per crescita. Ma io non mi voglio affezionare al big. Il big è un indicatore, va benissimo. Ma se cresce il big e cresce anche il numero di poveri, come sta succedendo? C'è qualcosa che non va. Vuol dire che la ricchezza si sta distribuendo sempre verso le stesse persone. Allora noi abbiamo presentato 20 punti per migliorare la qualità della vita degli italiani. Sono i 20 punti del nostro programma, le nostre 20 priorità. Perché abbiamo parlato di qualità della vita degli italiani? Perché qui non è una questione di destro, sinistra, ricchi o poveri. Qui c'è un problema in Italia, che l'1% della popolazione possiede il 25% della ricchezza nazionale. E quell'1% non sono diritto, perché non c'è niente di male essere ricco. Quelli sono quella elite privilegiata che in tutti questi anni ha avuto leggi a favore, provvedimenti a favore, fondi a favore e ha accumulato ricchezza impropriamente. Che cosa significa governare per la qualità della vita degli italiani? Significa governare per l'altro 99% di persone che è sempre stata discusa alle politiche pubbliche e che continua a sentirsi dire che le cose vanno meglio. Ma vanno meglio di cosa? Vanno meglio per chi? Vanno meglio per l'occupazione giovanile. Ogni tanto mi chiamo i miei amici della provincia dell'Apria e mi dicono, ma vuoi vedere sono rimasto l'unico giovane a non trovare lavoro, visto che i figli dicono che la disoccupazione giovanile cala ogni giorno. E io ti dico sempre, non ti lasciare individue da questi dati. Non pensare che sei tu quello che non è capace. Perché il vero grande problema è che la disoccupazione in Italia si calcola tra chi cerca lavoro e chi trova lavoro. Chi non trova lavoro è disoccupato. Ma se questo giovane smette di cercare lavoro perché se ne va all'estero o perché diventa un inattivo, perché ci ha perso le speranze, la disoccupazione giovanile scende, non aumenta. E quando vedete qualcuno a Roma che si vanta del fatto che la disoccupazione giovanile sta calando. Ricordatevi sempre che si sta vantando del fatto che migliaia di giovani italiani stanno andando all'estero o sono da tutti in depressione perché hanno smesso di cercare lavoro perché non ne possono più delle loro utiliazioni. Io oggi non ho visto una realtà coraggiosa. L'abbiamo vista insieme a Laura e a tutti gli altri. Una realtà che ha deciso da Cineale di investire sull'innovazione, sulle start-up. quelle persone sono degli eroi perché decidono di fare una cosa qui che in un altro posto d'Europa avrebbe agevolazioni, fiscalità di vantaggio. Noi come la creiamo l'occupazione giovanile? La creiamo continuando ad investire o cominciando ad investire nelle imprese. E le imprese oggi veramente sono eroiche perché noi siamo la seconda forza manifatturiera d'Europa. La prima forza per export in Europa come in Italia nonostante il 70% di tassazione e i livelli di burocrazia e di corruzione. Voi immaginate un attimo uno Stato che invece di mettersi contro le imprese comincia a lavorare per le imprese. Però una cosa la voglio dire qui. Io di quei risultati me ne vanto che siamo la prima per export e la seconda manifatturiera l'Europa ma ringraziando gli imprenditori che nonostante la politica riescono a fare quei risultati. Loro e i loro dipendenti. Perché sono loro che hanno permesso all'Italia di essere grande nonostante la crisi e nonostante le difficoltà. Che cosa significa aiutare il lavoro giovanile o meno giovane? Perché ricordiamoci sempre che per la riforma Fornero c'è chi perde il posto a 55 anni, a 60 anni e deve aspettare ai 67. Significa proprio di tutto lasciarle in pace le imprese ma anche le famiglie. Voi ormai in Italia quando avete un problema non sapete più quale sia la legge che si rivolge a quel problema e l'ente che ve lo deve risolvere. Quante volte siete andati a uno sportello e vi hanno detto non è mia competenza vado dall'altra parte, non è mia competenza vado dall'altra parte. Questo è lo sport italiano preferito dalla pubblica amministrazione. Ma non perché la pubblica amministrazione ci voglia rimanere conto. Perché ormai nessuno sa più che responsabilità si deve prendere e quali funzioni ha. E non perché c'è soltanto la produzione. Perché c'è il caos. L'Italia ha 187 mila leggi vigenti a cui si soglia una nuova legge ogni due giorni e mezzo. Voi tenete presente che ogni mezza giornata piomba sulla nostra destra una nuova legge. Perché tra regionali, leggi regionali, nazionali e europee, ogni mezza giornata c'è una legge che cambia. Ma mi spiegate come fa oggi un'impresa che fa un piano a 20 anni, a 10 anni, a 5 anni a pensare di poter cambiare le leggi ogni 12 ore. Non è possibile. Ed è per questo che oggi è tutto bloccato. È per questo che quando anche vai al centro per l'impiego, il centro per l'impiego ha delle procedure che sono epocali, che non finiscono mai, per le quali tu perdi qualsiasi speranza nel poter ottenere qualche risposta al centro per l'impiego. E lo stesso vale per l'impresa che fa l'agenzia dell'entrata, l'agenzia dell'entrata di discussione, la camera di commercio. È tutto bloccato. E i 20 punti per migliorare la vostra qualità della vita partono da un primo punto, che non è l'elenco delle leggi da fare, ma l'elenco delle leggi da apolire. 400 leggi di cui liberarci che stanno bloccando tutto l'Italia e che non ci consentono più né di lavorare, né di fare imprese, né di vivere sereni con la nostra famiglia. Da quale vogliamo iniziare? Da quelle che dovevano combattere l'evasione e invece stanno combattendo quelle che le tassero e le stanno sempre pagando. Lo split payment, lo spesometro, il redditometro, gli split di settore, va eliminato tutta questa roba. Io voglio invertire l'onere della prova in Italia. Qui ormai siamo tutti disonesti fino a prova contraria e dobbiamo passare tutto l'anno a fare certificati, moduli e modulistiche per dimostrare che siamo gente onesta. Mentre i disonesti quei moduli neanche ripresentano, tanto lo sanno che nessuno andrà mai a controllarli a prendere. Qualche tempo fa avevo qualcuno in pratero parlato con chi si occupa di agricoltura e mi hanno spiegato che loro passano 100 giorni l'anno come imprese agricole a fare scartozio per lo Stato e altri 60 giorni l'anno a ricevere i controlli in azienda dello Stato che ti chiede i moduli che tu già gli hai mandato. E' l'arte dei pazzi. Poi dicono che le aziende italiane non sono produttive. E' grazie, lavorano per lo Stato, non per creare lavoro e valore. Passano il tempo a fare questo. Ti arriva il controllo in azienda e si blocca tutto. Se non ti arriva il controllo in azienda devi prendere avvocati, ragionieri, commercialisti per fare le carte dalla mattina alla sera e sperare che qualcosa non vada male perché sennò ti arrivano delle volte. E questa è la lotta all'evasione. L'abbiamo visto stamattina che nasce reale il software che stanno sviluppando. Ci hanno chiesto una cosa questi ragazzi. Abbiamo un programma informatico. Dateci le banche dati della pubblica amministrazione. Fateci le incrociane e noi i furbi li troviamo tutti senza bisogno di controlli e di burocrazia. Ed è questo che noi dobbiamo fare. Stiamo nell'epoca delle nuove tecnologie e stiamo ancora a scrivere negli uffici tecnici decine di documenti che non servono più a nulla. E' così che noi vogliamo rilanciare prima di tutto le imprese. Poi lo so che non basta. E lo so che ci vogliono tanti soldi. Ma questi soldi vi posso dire dove li troviamo. Prima di tutto vi voglio dare qualche numero. Lo Stato italiano ha 300 miliardi di euro di evasione fiscale. 300 miliardi di euro all'anno di evasione fiscale. Su un bilancio di 800 miliardi di euro. 300 miliardi di evasione. Che potrebbero sommarsi quasi tutti a questo bilancio. In questi 800 miliardi di euro ci sono 30 miliardi di euro di sprechi. 30 da recuperare. E non lo dico io. Lo dice uno di quei tanti commissari alla spending review. Vi ricordate questa parola? Spending review? Che sono quelle parole inglesi che vi ha aggiornato alla politica italiana per dire spese di produttario della spesa improduttiva. Revisione della spesa. Significa mettersi col bilancio in mano e cominciare a togliere, come abbiamo fatto alla camera, tutti gli sprechi che non servivano. Ce ne sarebbero tanti altri da eliminare. Lo dobbiamo fare anche con il bilancio dello Stato. Ma noi, se andiamo al governo, ci mettiamo di nuovo a combinare un altro commissario alla spending review, un altro professore che ci fa un'altra relazione. C'è già tutto. Qui il problema è uno solo. Che quando c'era questo signore, questo docente diversitario che veniva dal presidente del Consiglio e diceva io gli ho fatto il piano per tagliare le cose che non servono, quel presidente del Consiglio invece di tagliare le cose che non servivano, tagliava il commissario e la spendita in cui lo mandava a casa. L'abbiamo visto con Portaresi l'ultima volta. Allora vogliamo prendere quei piatti quasi del tutto e cominciare ad applicarli. Che significa? Significa che noi in Italia abbiamo 8.000 società partecipate. 8.000 società partecipate. Solo di consigli di amministrazione ci costano un botto. Io non voglio licenziare le persone, voglio riorganizzare le risorse. Dobbiamo riorganizzare le società partecipate, facendolo sulla base di questi istruttori che ci hanno fatto. Dobbiamo digitalizzare la pubblica amministrazione, così la pubblica amministrazione potrà lavorare più velocemente e magari non avrà bisogno di una serie di procedure che spendano un mucchio di soldi. La sanità deve pagare i costi, i prodotti che compra, allo stesso prezzo dal nord al sud, senza spreco. Possiamo recuperare 30 miliardi. Un'altra cosa, lo sapete quanto date di tasse al carbone e al petrolio ogni anno per l'estrazione di carbone e petrolio in Italia? 16 miliardi di euro. Che è quanto ci serve solo per aiutare le famiglie? 16 miliardi. Ora, siamo un paese che affoca poco vento, poco sole, pochissime risorse geotermiche e quindi dobbiamo mettere 16 miliardi di euro in carbone e petrolio. Corretto, no? Questo è l'Italia. A me non risulta questo. A me risulta che una parte di quei soldi dobbiamo cominciare a mettere le energie rinnovabili ma non distese di eolico e fotovoltaico su cui poi fanno anche business le organizzazioni criminali. La vera sfida non è un campo fotovoltaico che crea un milione di kilowatt ma un milione di abitazioni che creano un kilowatt a testa col microerolico, fotovoltaico e geotermico. E per fare questo ormai abbiamo tutte le tecnologie. Qui basta soltanto avere la libertà di farlo ma se le compagnie petrolifere ti pagano la campagna elettorale tu il piano per le rinnovabili non lo farai mai. Passerai il tempo a sabotarlo. E' questo che ho visto io questi anni. Non in competenza. Io ho visto gente che metteva la sua competenza a servizio del male e non del bene. Ed è per questo che siamo bloccati. Perché ogni miliardo di quei 16 che rimane sul petrolio e sul carbone crea 500 posti di lavoro. Ogni miliardo che spostiamo da lì e lo mettiamo sulle rinnovabili crea 17.000 posti di lavoro. Voi direte ma con le rinnovabili riusciamo a soddisfare tutto il fabbisogno energetico dell'Italia. Prima di tutto sì. Il tema è in quanto tempo. Noi abbiamo un piano pluridecennale per uscire dai carbon fossili. Però si basa su un altro concetto che riguarda le vostre famiglie riguarda i costi fissi della vostra casa. Voi pagate le bollette più alte d'Europa e le pagate anche perché le nostre abitazioni disperdono calore e disperdono energia. E lo Stato vi dice eh ristruttura della ragazza. Eh grazie me lo dovevi dire tu. Allora che cosa si sono inventati? Gli ecopons. Che significa che tu hai una percentuale di sconto sulla ristrutturazione di casa tua per abbassare i consumi. Quindi cambi di infissi, fai nuove coibentazioni e cerchi di fare in modo che la tua casa disperda meno calore e consumi di meno a punto di vista elettrico, gas e così via. Peccato e probabilmente qualcuno di voi l'ha utilizzato. Quando accendi l'ecoponus fai una detrazione per esempio sulla tua pensione, sul tuo stipendio che a volte ti vogliono 10 anni per ammortizzare quel piccolo sconto che lo Stato ti dà. E quindi non ti conviene perché alla fine è un morale della favola l'impresa che viene a ristrutturare ti devi dare tutti i soldi tu e poi un po' alla volta nei prossimi 10 anni ammortizzerai quella spesa. E infatti l'ecoponus non funziona. La gente non sta ristrutturando le case energeticamente e quindi continuiamo ad avere una richiesta di energia altissima che non serve perché con case coibentate ne servirebbe il 30% in meno. Che cosa abbiamo promosso noi? Si chiamano certificati di credito fiscale. Io ve li voglio spiegare perché magari tra un anno li avrete e li potrete usare. Se lo Stato ti dà il 50% di sconto sulla ristrutturazione della tua casa tu chiami l'azienda e quindi facciamo ripartire l'edilizia che era un motore della nostra economia la fai venire a casa tua e le fai ristrutturare la casa. Il 50% dei soldi li dai di tasca tua, sono i tuoi soldi. L'altro 50% lo scaridi come certificato dal sito dell'agenzia dell'entrata. È il 50% di sconto dello Stato. Con quel certificato paghi l'azienda di edilizia. Quindi in quel momento tu hai dato solo il 50% di quello che serviva. L'azienda va in banca con quel certificato, monetizza il certificato, la banca trattiene il 5-10% e ammortizza la banca su 10 anni. Tanto è solida ed è in grado di gestire l'apportamento. In questo modo voi monetizzate subito lo sconto. Ristrutturate la casa, ci abbassate i costi e abbiamo una vera rivoluzione delle rinnovabili che significa rinanciare l'edilizia, il lavoro giovanile, il lavoro meno giovane e anche tutti gli ingegneri e i tecnici che ci possono aiutare a sviluppare le tecnologie delle energie rinnovabili. Questa è la nostra idea di paese che crea lavoro e crea competizione. Però, e voglio andare verso la conclusione, chiariamoci un attimo. Perché se pensate che il tema siano i programmi, quello che vi ho detto io, c'è scritto ovunque. Qui il tema non sono i programmi. Non c'è un programma brutto. L'abbiamo visto anche durante le regionali. Non c'era scritto che nominava la segretaria a capo del CAS. Non c'era scritto che metteva amici che i presidenti dell'Assemblea regionale siciliana. E non c'era scritto, si sapeva, no? Io sapevo che era presidente proprio. Questo tema qui è importante. I programmi valgono qualcosa se è incredibile chi lo propone quel programma. Se chi lo porta avanti fa quello che dice. Io vi dico con molta umiltà, però sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Nessuno mai vi potrà dire che nel 2013 abbiamo promesso di rinunciare al vitalizio e poi l'ha fatto, a parte noi. E l'abbiamo fatto senza una legge. Avremo un po' di credibilità in più rispetto a tutti gli altri che mi vengono a proporre Maria Monti senza dirgli neanche dove prendono i soldi. Avremo un po' di credibilità in più. Credibilità, libertà, sono i due fattori per dire vabbè, me lo leggo il tuo programma. Altrimenti non serve a niente. Non ve lo leggete neanche. Non vi disturbate neanche. Ci sono delle cose che l'Italia aspetta da 30 anni che dobbiamo fare. E io credo che il 4 marzo, esattamente tra un mese e qualche giorno, possiamo metterci al lavoro per iniziare a farlo. E su questo vi do i numeri. Noi oggi abbiamo il MoVimento 5 Stelle che è la prima forza politica del Paese al 30%, ma possiamo arrivare ben oltre, perché qui siamo arrivati al 35%. E l'ultimo mese di questa campagna sarà un mese in cui tanti indecisi decideranno per chi andare a votare. E tanti che si astengono spero che possano decidere per chi andare a votare. Poi abbiamo il PD che è in Cagliotaripena, era anche ora, dopo tutto quello che hanno combinato con le banche qua in Sicilia, con Procetio, con tutto quello che hanno combinato. E poi abbiamo una affunchiata di centrodestra in cui Forza Italia e Lega si rubano i voti a vicenda, in cui Berlusconi è ineleggibile, quindi sta facendo una campagna. Per me è anche un problema. Io ho di fronte uno che è il mio convento, che però non potrà mai entrare nel posto dove si sta candidando. Quindi è anche un po' folle come campagna. E questa coalizione centrodestra è intolta al 35%. Questi numeri, in questo momento, dipendono da voi. Deciderete voi dove fare arrivare il movimento. Se arriveremo al 40% o al 35%, al 36%, possiamo ambire a governare da soli. E la squadra di governo ce l'abbiamo già, la presenteremo prima delle elezioni. Se invece non dovessimo arrivare alla maggioranza assoluta, state certi di una cosa, che noi non facciamo il doppio giorno. Non cambiamo il Presidente del Consiglio, cambiamo i ministri. Perché siete già stati fregati troppe volte in questo senso. Noi, la sera delle elezioni, come prima forza politica del Paese, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza assoluta, non staremmo nell'angolo a dire risolvetevela da voi, anche perché non hanno i numeri per mettersi insieme e fare il 51%. Diremo a tutti, questi sono i nostri 20 punti. I 20 punti per la qualità della vita degli italiani. Volete aggiungerne qualcun altro? Avete qualche altra idea buona per gli italiani? Mettetela qui. E andiamo alla legislatura e cominciamo a fare quelle cose che aspettiamo da 30 anni. L'unica altra alternativa che hanno è tornare a votare. Ma noi il Paese del caos non lo lasciamo, perché questa legge elettorale non va a volta noi, ma ci prendiamo la responsabilità di risolvere il problema che hanno creato, che è l'ingovernabilità e il disastro delle grandi coalizioni che si combattono l'una contro l'altra all'interno. E non è un caso che stiamo presentando i candidati nei collegi binominali, perché i due terzi del Parlamento saranno decisi con le liste proporzionali, che noi siamo stati gli unici a selezionare con le parlamentari, gli altri se li sono selezionati nelle segrete stanze di partito. Dall'altra parte un terzo si deciderà nei collegi binominali, non c'entrano niente i sondaggi lì. Lì che arriva per primo si prende il collegio, cioè si prende il seggio nel singolo collegio. Ora qui c'è il collegio di Catania, il collegio dei Cineati, ci sono gli altri collegi della Sicilia. In ognuno di questi noi abbiamo candidato persone d'esperienza, persone che sono eccellenza nella loro materia, sono persone che sfidano altri partiti, ma senza paracadute e senza salvataggi di alcun tipo. Voi qui per esempio a Catania avete una cosa in comune con i cittadini di Bolzano, che è la Boschi che si è andata a candidare qui e si è andata a candidare a Bolzano. Quindi ce l'avete anche qui per la candidata, perché ovunque la vogliono candidare, non è adesso dove ha combinato il macello e le banche. Datevi una lezione politica a questa gente. Non fatevi usare come serbatoio di Bocchi, vi prego. Non fatevi usare come serbatoio di Bocchi. Pensate che sono stati in Emilia Romagna due settimane fa? No, la settimana scorsa. E a Bologna il PD ha candidato Casini. A Modena il PD ha candidato Beatrice Lorenzini, che si è fatta 10 anni con Berlusconi. E dove sono andati i candidati? Pensate un po'. Nelle regioni rosse. Cioè dove c'è quella gente che vota a sinistra, che è di sinistra e crede di votare a sinistra votando il PD. Ma adesso dovrà fare un ulteriore sforzo, non solo per considerare il PD di sinistra, ma anche di votare un candidato di destra che rappresenta il partito di sinistra. E credo che anche lì gli daranno una bella lezione. Noi non abbiamo gente paragandata in giro. Abbiamo stabilito delle regole ferre e io ve lo dico. L'unica mia preoccupazione, ed è per questo che esiste un nuovo statuto, è proteggere il movimento da chi ne vuole approfittare. E oggi abbiamo stabilito delle regole ancora più ferre. Ti devi candidare dove sei residente, perché devi conoscere il territorio. Non esiste paracadute, non esiste dove fai a mettere un giro per l'Italia. Devi essere una persona che non è condannata neanche in primo grado e non deve avere chieste in corso che sono indecenti. Poi se ci sono le guerrelli è un'altra storia, le guerrelli ce le prendiamo tutti, perché tutti quanti parlando ci prendiamo la guerra di qualcun altro. devi essere una persona che accetta la penale di 100.000 euro per i cambi di casacca, per il Porta Carbano. Noi abbiamo introdotto una regola nel popolo Stato 2. Chi cambia casacca ci deve dare 100.000 euro per dare un bene di cenza ai cittadini. Ma questa è solo una prima regola, perché il nostro obiettivo, se andiamo al governo a farlo, è una norma che dice che se tu entri con i gialli e vuoi passare con i rossi, te le torni a casa e ti fai rileggere, non resti in Parlamento. e poi c'è la regola dei soldi. Qualcuno diceva, ma tanto ma siete forza di governo, mettete ancora nello statuto che rinunciate ai riporsi elettorali, che vi tagliate lo stipendio, che vi tagliate i vitalizi. Sì, lo facciamo anche perché abbiamo la credibilità per dire di averlo già fatto. Perché in tutto il Movimento 5 Stelle negli ultimi 5 anni ha restituito oltre 100 milioni di euro di stipendi tra consiglieri regionali, deputati, sindaci e tutto quello che ha eletto nelle istituzioni. Numeri incredibili di cui non si parla mai, e perdonatevi se sono ripetitivo su questo tema, ma dimostrano non tanto che i politici possono tagliarsi i soldi, ma che la politica si può fare con molti meno soldi di quelli che prendono i partiti tradizionali. Perché noi non siamo una forza del 3%. Siamo la prima forza politica del Paese e il primo movimento d'Europa. E lo facciamo senza prendere fondi pubblici e alla metà del prezzo degli altri eletti nelle istituzioni. E di questo dobbiamo sempre esserne orgogliosi. Io spero dal 5 marzo di potermi mettere a lavorare con tutti quanti gli altri ai problemi dell'Italia. Speriamo di potercela fare perché il prossimo mese vale i prossimi 10 anni. Se ci mettiamo tutto l'impegno e coinvolgiamo quante più persone possibili, avremo nei prossimi 10 anni dei grandi cambiamenti. Anche a costo che qualcuno ci venga contro, anche a costo della resistenza di qualche potere decotto di questo Paese che vuole accorre legge a persona, a costo di tutto dobbiamo cambiare l'Italia. Ma sempre con gli strumenti democratici, perché la nostra è una rivoluzione gentile. L'abbiamo già fatta in parte e la faremo dal governo dell'Italia. Grazie. Grazie. Grazie a voi per averci seguito. Grazie a tutti. Ci saranno ulteriori appuntamenti. Vi ricordo che oltre alle candidate del nominale ci sono l'Avvocato Simona Lugiano che è candidata del Conteggio di Vistri Bianco e l'Avvocato Eugenio De Vitte che è candidato invece nel Colleggio di Paternò. e vi presenteremo assolutamente. Sono qui. Grazie ovviamente d'obbligo a chi invece ha permesso questa manifestazione di oggi e questo incontro che sono gli attivisti del gruppo di Catania. Grazie anche a voi. Buonasera a tutti. Grazie.